mannaggia proprio oggi che c'è carlo bucci rosso perso la navetta e da quando sono piccolo che lo seguo il mio idolo per me la vera star del festival non devo arrivare in tempo ciao carlo piacere il tema centrale del festival è l'amore per te carlo che cos'è l'amore sai ogni volta che mi chiedo una cosa è l'amore poi ti viene di dare una definizione diversa perché secondo me il momento contingente della tua vita che ti porta a dire quella cosa forse ora magari sento bisogno di rispetto nella vita e magari ti dico che l'amore è grande rispetto terminati i concorsi riservati gli spettatori più piccoli e ora la volta di film e argomenti più legati all'adolescenza state aspettando jesse mccarley e che cosa volete fargli a jesse mccarley ho letto che sei molto attivo sul sul tema dell'ambiente ci vuoi dire come stai lavorando per avere un mondo migliore come si fa visto che comunque tante cose fama successo come si fa a rimanere con i piedi per terra 007 e un lalla un lalla un lalla un lalla come si collegano queste tu da studente com'eri sai che ha detto di te che eri secchi una e quindi come era carmen consolida piccolina figlia unica per cui c'è a scrivere canzoni tristi hai paura dei ragazzi perché ti fanno qualche domanda strana questo è il festival dell'amore potrei avere un abbraccio in tre dita te allora mettete così mettitele anche tu sì e fai così sono troppo stanco qua solo interviste si mangi interviste interviste si mangi e in più non mi sto muovendo domani faccio sicuro allenamento in spiagge perché devo tenerlo io non interrompere un paio che poi lo devono pagare poi vi siete conosciuti a taormina in un villaggio turistico sbaglio è certo uno la voci lavorava e uno era animatore no no uno era animatore uno era cliente e come da questa amicizia poi come si è diventato amicizia chi sta aspettando il cantando a lì capo come si chiama lì capo sei stato regista di due film ci sono dei progetti che riguardano il cinema oppure ci si concentra sulla musica che penso che ti prende tanto sì grazie mi piacerebbe un sacco a me diventare attore beh ma c'hai talento per recitare io non lo so facciamo un provino volo dai guardami sì devi fare una dichiarazione d'amore fammela però vera giusta senza ridere non c'è niente da dire bocciato bocciato come attore fai schifo se ti parti una lacrima ti prendo concentrati ti do 10 secondi 10 secondi tu di solito sei l'uomo cattivo nei film quindi per samuel che cos'è l'amore visto che tu spesso sei il cattivo quando tu incontri degli amici o delle persone una donna che ti vuole bene la devi tenere stretta perché dopo è un casino intorno e c'è un disastro posso dare un abbraccio anche con cristiano è finito il festival grazie ci vediamo claudio ma che ti vuole rivedere sono stati dieci giorni indimenticabili purtroppo devo dire io queste parole perché il nostro caro frank non ce la fa a parlare è troppo dritta ciao scaiono divertitevi ci vediamo l'anno prossimo sei proprio scemo grazie a tutti